Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre giuro di muscoli a vita, nel video di oggi voglio parlarvi di come ottenere delle spalle rotonde, spalle da cannone che tutti noi vogliamo avere da natural, perché ovviamente se siamo dopati è più facile ottenere delle spalle, appunto che sembrano 3D, da natural che cos'è che possiamo fare? Lo so che tanti di voi sperano che io vi dirò, ah devi fare questi esercizi oppure queste ripetizioni, queste serie eccetera eccetera, però queste sono tutte cose secondarie, è molto più importante capire che ci sono delle basi scientifiche che dovete colpire se volete vedere maggiormente la crescita, quindi non pensate a drop set, super set, tempi di recupero eccetera eccetera, pensate molto di più a una visione olistica Che cos'è che state facendo per crescere le vostre spalle? Per prima cosa sapete che le spalle ovviamente sono composte da 3 muscoli, ovvero deltoide anteriore, laterale e posteriore, quindi per ottenere delle spalle belle in vista e comunque salutari dobbiamo allenare tutti e tre Se vuoi veramente delle spalle potenti io ti consiglierei di allenarle 2-3 volte a settimana, per quale motivo? Perché aumentando la frequenza mantieni i livelli di sintesi proteica in questo gruppo muscolare elevati per tutta la settimana Quindi se tu lo stai facendo in monofrequenza ti consiglio di, se sei natural, di aumentare la frequenza 2-3 volte di frequenza a settimana Poi la cosa importantissima che io ho notato che è cresciuto alle mie spalle e che posso dire che sono sempre state un punto abbastanza forte è stato il sovraccarico progressivo Ovvero piano piano col passare del tempo da sessione a sessione ho provato sempre a spingermi ad aumentare il carico mantenendo ovviamente una forma corretta Cosa vuol dire esattamente? Che se io oggi sono entrato e ho fatto il seated shoulder press, quindi il press da seduto con dei manubri e oggi ho fatto 3 serie da 8 con 20 kg Quindi la prossima seduta provo a fare 3 serie da 8 con 22.5 kg, ovvero l'intervallo di manubrio superiore Oppure 3 serie da 9 con 20 kg e così ogni singola volta, quindi provo a spingermi, provo sempre ad aumentare più il carico Questo è il sovraccarico progressivo e è la legge per la crescita muscolare da natural, quindi se tu vuoi crescere ti consiglio veramente di applicarlo Per le spalle puoi scegliere ovviamente un movimento composto all'inizio che può essere seated shoulder press oppure standing military press Quindi o col bilanciere o con i manubri devi fare un movimento composto, appunto un press verticale in cui o sei seduto o sei in piedi Non è veramente importante, l'importante è che provvedisci di sessione in sessione Poi ovviamente se arrivi in un momento di stallo basta che se stai facendo da seduto inizi a farlo da in piedi e viceversa Ti consiglio di seguire lo stesso esatto esercizio per almeno 8-12 settimane per vedere se riesci a progredire questo esercizio Quindi al termine di queste 8-12 settimane dovresti stare sollevando più peso e ti assicuro che le tue spalle saranno cresciute Secondo luogo, questo ovviamente, il press in alto, si allena tutta la spalla ma maggiormente il focus è sul deltoide anteriore Cosa fare per il deltoide laterale che alla fine ci aiuta a dare una bella spalla rotonda? Il deltoide laterale è un muscolo piccolissimo e infatti vedo troppa gente che prende dei chili assurdi e inizia a fare natural raise con, non so, 10-12-14 kg Ma è un mini muscolo, può essere stimolato con molto meno peso Ovviamente il deltoide laterale si allena come ogni altro muscolo, quindi io lo allenerei tra le 8-12 ripetizioni a serie Sceglierei un carico non elevato ma leggero o comunque moderato su cui veramente riesci a mantenere la tensione nel deltoide laterale Invece di utilizzare il momentum e di muoverti così, tipo sei immobile e fai solamente il movimento sentendo veramente solamente il deltoide laterale che contrae e che alza il peso Quindi abbiamo parlato della frequenza con cui devi colpire 2-3 volte a settimana le spalle, se vuoi veramente vederle crescere Secondo luogo il sovraccarico progressivo, devi diventare più forte su questo movimento Terza cosa, ovviamente fai dei movimenti di isolamento per il deltoide laterale Puoi fare ad esempio dopo aver fatto 3 serie da 10 sulle dumbbell shoulder press, puoi fare poi, metti 3 serie da 12 per il deltoide laterale E poi ovviamente puoi fare 2-3 serie per colpire il deltoide posteriore, sempre 2-3 serie da 10 di face pulls oppure di reverse flies Penso di aver detto tutto, l'importante è di colpire più o meno 40-70 ripetizioni a sessione per le spalle, 2-3 volte a settimana Pensate a sovraccaricare, iniziate sempre con un movimento composto per le spalle, passando poi per i deltoidi laterali Non utilizzate Lego su questo movimento, alzatelo mi raccomando solamente con il deltoide laterale Quindi non utilizzate i preps, tanta gente fa così, no, utilizzate semplicemente il deltoide laterale E vi assicuro che le vostre spalle cresceranno Sopraccarico progressivo comunque è la cosa più importante, ho notato che per me mi ha aiutato tantissimo Spero di esservi stato di aiuto, qualsiasi cosa, qualsiasi domanda lasciatela nei commenti Buttate un like a questo video se volete appunto aiutare la crescita di questo canale Iscrivetevi, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!